Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sul traffico. Traffico in questo sabato mattino è condizionato dal maltempo e dalle limitazioni alla circolazione imposte dal decreto io resto a casa per contrastare l'emergenza sanitaria in atto. Disaggi alle frontiere con l'Austria e la Slovenia fin da mercoledì. Ci sono in atto dei controlli, entrano in Slovenia solo gli autotrasportatori e i residenti. Tutte le altre categorie devono tornare indietro e al momento si registrano code tra Gradisca di Sonso e Gorizia e sulla 23 la Palmanoa Tarvisio tra Tarvisio e il confine austriaco. Vi informo che da oggi 14 marzo fino a domenica 29 marzo prossimo sono stati sospesi tutti i divieti di transito in Austria. Ciò significa che i mezzi pesanti potranno viaggiare tra la Germania e l'Italia dalle 7 del sabato fino alle 22 della domenica. Sospeso il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per le date di domenica 15 marzo e domenica 22 marzo. In queste due domeniche potranno circolare tutti i veicoli impegnati in servizi di trasporto internazionale. Rimane invece in vigore il divieto per i veicoli pesanti non impegnati in trasporti internazionali. Proprio in questo momento si registrano dei disagi sull'A4, vediamo con l'ausilio della grafica, Opicina, Fernetti, perché c'è l'uscita chiusa proprio per il completamento dei posti disponibili all'interno dell'autoporto, allo svincolo autoporto di Fernetti-Dogana in direzione della Slovenia. Abbiamo una segnalazione per quanto riguarda la viabilità di un incidente sull'A4 che sta generando al momento dei rallentamenti tra Dalmine e Trezzo. Ecco, vediamo la grafica tra Dalmine e Capriati in direzione Milano. E poi vi comunico che sull'A5 la Torino Courmayeur sarà chiusa per lavori all'interno della galleria fino alle 30 aprile. Sono lavori già programmati che vanno da Courmayeur Sud fino alla strada statale 26 della Val d'Aosta. Vi ricordo che la mobilità è consentita solo per esigenze lavorative, motivo di salute, necessità quotidiane o per donare il sangue. A voi tutti un piacevole sabato e arrivederci.